La città di Cremona si racconta in Russia. Un concerto suggestivo nella splendida cornice del Museo dell'Acqua di San Pietroburgo ha chiuso la missione del sindaco del comune di Cremona Gianluca Galimberti e dell'assessore Barbara Manfredini nella città russa al fianco del Museo del Violino. L'evento, preceduto da importanti contatti avvenuti con alcuni esponenti dell'imprenditoria russa che si occupa di acqua, si è svolto presso l'azienda leader di servizi di acquedotto e fognatura della nazione. Protagonisti i massimi responsabili della società russa, il consul italiano San Pietroburgo e i rappresentanti del Museo del Violino. Secondo il sindaco della città del Torrazzo, l'evento, che ha celebrato un incontro tra culture e tra storie distanti allo stesso tempo simili, è stato un punto di partenza per iniziare a ragionare insieme su come tutelare al meglio un bene della collettività, secondo logiche di unione.